Sono Patrizia, sono infermiera di professione e ho iniziato con la moto da 5 anni come conducente. Prima ero passeggera e ho seguito il mio compagno appassionata di moto e ho seguito un po' la sua passione. Attualmente guido l'F650 e è una moto facile da guidare, comoda, semplice e adatta a me. Noi andiamo per gustarci proprio il panorama, il paesaggio, ci fermiamo, facciamo una foto, un selfie insieme, insomma, la viviamo un po' così, una vacanza a scoprire luoghi, posti e a volte anche inaspettati perché veramente si scoprono anche un piccolo paese, un borgo, una casa, un panorama. È bello, è bello.